benvenuti a questa nuova edizione delicata news in apertura ci occuperemo ancora di ospedale un altro servizio viene soppresso la guardiania notturna di fatto chiude e quindi non c'è controllo agli eccessi notturni all'ospedale san giacomo otto passo sempre per carenze di personale ci occuperemo poi di un'importante iniziativa call for papers per ricordare l'ottavo centenario della morte di sant'angelo martire carmelitano con epicentro al liceo linares il convegno dell'ordine degli ingegneri ospitato al carbine e poi chiuderemo con il licata calcio prima trasferta stagionale in casa del bianca villa il treno dei servizi piove sul bagnato per l'ospedale san giacomo d'altopasso come se non bastassero le carenze croniche negli organici di medici infermieri e personale ausiliario adesso c'è un disservizio anche per quanto concerne la portineria di accesso alla struttura sanitaria di contrada canna vecchia il presidio è infatti non attivo durante le ore notturne con un evidente deficit dal punto di vista della sicurezza per quanti operano e sono ricoverati nel nosocomio anche in questa circostanza la denuncia arriva dalla cis la funzione pubblica con il segretario aziendale della spuno alessandro farruggia a quanto già rappresentato aggiungiamo che è la portineria di licata viene ormai se il servizio è stato sospeso in quanto giusto oggi c'è stata notificata una risposta dalla diretta responsabile in quanto appunto c'è una carenza anche in questo settore di organico e quindi ha dovuto interrompere il servizio andando però meno andando a determinare una delle carenze rispetto alla sicurezza gli accessi in ospedale tutto quello che ne può derivare il servizio è stato pertanto interrotto a causa di una serie di carenze alla cui incidenza si riverbera poi sull'impossibilità di garantire determinati servizi come noto martedì allicata arriverà la commissione sanità all'ars guidata dall'onorevole margherita la rocca ruvolo sarà questo un modo per potersi sincerare da vicino delle condizioni in cui versa l'ospedale san giacomo alto passo per il quale ormai da anni si sprecano segnalazioni e disservizi con ovvie ricadute sui livelli essenziali di assistenza nei confronti di un'utenza che abbraccia un bacino oltre a quello licatese comprendente i comuni di palma di montechiaro mazzarino e riesi preside liceo di linares ha raccolto l'invito arrivato dall'ordine carmelitano per ospitare qui al linares questo convegno storico che sta ripercorrendo appunto la vita del santo sì noi siamo stati felici di aprire le porte della nostra istituzione scolastica a questo evento di riportata internazionale abbiamo in collegamento degli studiosi dagli stati uniti non potevamo esimerci dal aprire insomma la scuola a questo evento per il forte valore culturale ma anche per lo spessore che può rivestire a livello formativo per i nostri studenti studenti che stanno partecipando alla magna sì abbiamo una rappresentanza purtroppo per il rispetto delle norme anti covid non possiamo creare assembramenti quindi rispetto della delle misure dell'aula magna e quindi del garantire il metro di distanza fra un ospite e l'altro abbiamo una rappresentanza del biennio questa mattina è una rappresentanza del triennio chiaramente per tutti e tre gli indirizzi nel corso del pomeriggio un convegno internazionale ospitato qui oggi al liceo di nares con la figura di sant'angelo ovviamente sullo sfondo sono stati realizzati una serie di studi settoriali proprio sulla figura del santo sì assolutamente sì è un evento che abbiamo fortemente voluto come postulazione generale e come archivio generale dell'ordine proprio per coinvolgere le professionalità anche fuori della sicilia fuori dell'italia per questo abbiamo bandito questa call for paper nel luglio dello scorso anno per chiamare tutti gli studiosi ad approfondire sempre di più la figura di sant'angelo al di là degli stereotipi o delle notizie comunque già note e conosciute oggi finalmente ne raccogliamo il frutto contributi che sono arrivati da ogni parte del mondo che si stanno presentando oggi qui a linares sì contributi importanti per riscoprire questo personaggio studiato nel passato ma anche messo da parte trascurato loro oggi ritornare sul contesto storico in cui egli ha operato il genere letterario verso il quale è stata presentata e tramandata la sua biografia e le testimonianze iconografiche anche di culto che ci sono state rendono questa figura una figura molto attuale molto importante ecco per la ma anche per l'ordine carmelitano la sala conferenza del carmine ha ospitato una seduta straordinaria del consiglio dell'ordine degli ingegneri di agrigento tanti i temi trattati nel corso della seduta abbiamo sentito il presidente provinciale achille furioso la grande attività che sta svolgendo l'ordine per snellire le pratiche burocratiche all'interno degli enti locali per andare incontro alle varie esigenze anche non informative di chiarimento per esempio sul super bonus perché gli ingegneri sono molto presenti anche a livello nazionale incidono su queste scelte anche per cercare di come dire bypassare alcune problematiche sia l'enea che l'agenzia delle entrate continua diciamo a porre nel sburocratizzare queste procedure che invece devono essere incentivate perché danno la possibilità a tantissimi di lavorare a tantissimi colleghi professionisti e soprattutto anche alla collettività di ripristinare il patrimonio edilizio e di risparmiando anche tantissimi soldi questa è una delle tante cose che l'ordine ingegneri sta portando avanti grazie a fare gli onori di casa il consigliere dell'ordine l'architetto licatese nino cellura e questo diciamo è un poveriggio molto importante per il comune di licata perché in questa seduta straordinaria del consiglio dell'ordine siamo qui presenti proprio perché licata facendo parte del territorio abbiamo cercato in tutti i modi di far sì che tutto il consiglio si muova e si muova nell'ambito del territorio del territorio provinciale la presenza è uno stimolo uno stimolo per le amministrazioni uno degli obiettivi del nuovo del nuovo consiglio dell'ordine che si è appena insediato è quello di instaurare dei rapporti anche di collaborazione ricordiamoci che l'ordine degli ingegneri è fatto di diverse professionalità è fatto di diversi professionisti che hanno delle specificità in moltissimi in moltissimi cambi per cui una attività di collaborazione con gli endi istituzionali il comune in primis le sovrendendenze e i geni civili insomma diciamo tutti quelli che sono gli uffici preposti allo sviluppo allo sviluppo delle località diventa un fatto fondamentale l'ordine ingegneri oggi da testimonianza con la presenza all'icata di voler anche come dire sviluppare dei rapporti con gli endi di essere da stimolo per gli endi e di collaborare anche per la sburocratizzazione degli endi perché oggi si soffre tantissimo di questi di queste di queste problematiche fare sì che professionisti imprese in primis diano dei servizi che siano quando più veloci possibili c'è da sfatare il tabù orazio raiti per il delicata atteso dalla trasferta di biancavilla in una gara valida per la seconda giornata delle gironi di serie d lo stadio etneo ha infatti sempre riservato esiti amari alla licata uscito sconfitto dalle gare in cui è sceso in campo in questo impianto tutte le trasferte saranno difficili noi le affronteremo sempre col solito piglio nel senso che cercheremo di fare la nostra partita e cercare di mettere in pratica quello che è il nostro il nostro gioco abbiamo assunto anche già una buona identità un buon principio di gioco per ciò dobbiamo continuare su queste su questi aspetti e lavorare lavorare giorno dopo giorno dobbiamo volare bassi perché anche se abbiamo fatto queste due vittorie tra campionata e coppa non ci dobbiamo per nulla esaltare romano in coppa contro la san cataldese ha potuto far riposare molti elementi titolari che con ogni probabilità verranno riproposti dal primo minuto nella trasferta di biancavilla il licata arriva a questo appuntamento sulle ali dell'entusiasmo dopo le due vittorie di fila e cercherà di allungare la serie di risultati positivi grazie a tutti